C'era anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ad accogliere i turisti, gran parte abruzzesi e pescaresi ma anche di Marche, Puglia e Molise, del volo Ryanair Parigi-Pescara di ritorno dalla capitale francese dopo la strage terroristica dello scorso fine settimana. Un po' l'abbiamo visto perché eravamo lì, quindi abbiamo iniziato a vedere gente che correva e niente, poi un po' ci hanno avvertito, però pian piano abbiamo capito cosa stesse succedendo, una volta in albergo sì. Tornerete comunque in Francia? Certo, come no, sì sì. Abbiamo passato una notte molto molto agitata per noi e soprattutto anche di frenesia perché non capivamo cosa stesse succedendo. Eravate molto distanti dai luoghi degli attentati? Purtroppo no, purtroppo no. Eravamo a 100 metri dal Bataclan con la TEL quindi purtroppo abbiamo assistito quasi in diretta a ciò che era successo. Tanta polizia per la strada, tanta paura, tanto terrore? Sì 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 sì, sia la notte stessa che anche i giorni dopo la città era proprio in un clima surreale, giustamente perché un atto del genere sembra ingiustificato, è ingiustificato, è andato a colpire i ragazzi, i giovani della mia età, in un quartiere super giovane, quindi ci ha colpito direttamente anche a noi, ovviamente non fisicamente ma molto nella testa quello sì. Tanta polizia in strada? Polizia quando ne vuole. All'aeroporto? All'aeroporto sì. Maggiori controlli rispetto? Qualcuno in più sì però, più o meno i soldi controlli. C'era l'esercito, all'aeroporto e basta. Polizia girava, sì, testi di cuoio che vedevi in macchina prima di partire il tempo in pro. Tornerà lei in Francia, a Parigi? Dopo che passa la paura può ingatarsi, ora è difficile. E' ancora viva nelle parole di queste persone la paura e il terrore che si è vissuto in queste ultime volte. Loro malgrado si sono trovate nell'epicentro di una delle cose più gravi che è accaduta in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. Con quelle persone con cui ho parlato, insomma accolto il fatto che difficilmente dimenticheranno questo fine settimana. Poi la necessità in qualche modo che le nostre vite ritornino come quelle di prima, che non si abdichi al diritto di viaggiare, di andare in un ristorante piuttosto che in un teatro ad ascoltare musica. Perché sembra che un po' questa guerra e i valori dell'Occidente vanno nella direzione di infonderci la paura. Ma noi dobbiamo resistere e dobbiamo continuare a vivere la nostra vita giorno dopo giorno.